È arrivata la bozza del tracciato da parte di Veneto Strade così come da accordi preliminari, adesso abbiamo circa un mese per presentare delle osservazioni a Veneto Strade che poi metterà in gara il progetto. Il quarto lotto della tangenziale prende sempre più corpo nonostante le proteste di alcuni cittadini capeggiati da Marilena Rosada che da sempre si oppone alla costruzione di questo tratto di strada che dovrebbe sgravare San Giuseppe di buona parte del suo traffico quotidiano. Incontrerò nei prossimi giorni proprio queste persone, gliel'avevo promesso e lo farò proprio perché mi piace mantenere la parola e soprattutto convintamente sono dalla parte del quarto lotto però credo che sia anche giusto ascoltare coloro che magari dei dubbi ce li hanno o magari vogliono presentare qualche osservazione sul tracciato. Ora il sindaco promette che incontrerà i cittadini per spiegare il progetto che non dovrebbe attraversare i giardini di alcuni residenti come si pensava in un primo tempo. Dalla prima bozza che abbiamo le case non vengono in alcun modo toccate quindi è già stato ottenuto un risultato importante con lo studio preliminare. Dobbiamo andare in gara per il progetto esecutivo che ovviamente terrà conto di tutte le presenze nel territorio di case, di aziende eccetera però dalla bozza che ho visto e che stiamo analizzando con i nostri uffici non ci sarà nessuna interferenza. La tempistica rimane comunque incerta dato che per ora è stato approvato solo il finanziamento della fase progettuale. Intanto entro fine anno verrà messo in gara il progetto esecutivo. Una volta ottenuto il progetto esecutivo io conto che nel giro di poco tempo si possa cominciare a vedere anche la gara d'appalto per la realizzazione di quest'opera che è un'opera attesa da decenni, è un'opera importante che può alleggerire il traffico nel quartiere San Giuseppe, Monigo e anche in parte San Paolo. Quindi insomma è un'opera importante per la nostra città e sono convinto che in tempi relativamente brevi riusciremo a dare il via all'interburocratico anche per la gara d'appalto.